C'è chi ha favore, chi è contrario, chi propone migliorie prima di procedere con i lavori. Da un mese a questa parte si sono succedute le prese di posizione sul progetto Valley for All, Valle per tutti in italiano, l'intervento che dovrebbe vedere la luce in Valdimello per rendere quell'incantevole spicchio di Valtellina più accessibile alle persone con disabilità. Nel signore della trasparenza in questo Rersaf ha pubblicato sul proprio sito internet la descrizione del progetto e le foto delle singole opere ideate per migliorare l'accessibilità agli escursionisti con handicap. L'investimento complessivo è di 400.000 euro di cui 40.000 destinati alla sistemazione del sentiero, un percorso che avrà larghezza massima di 80 cm, si legge nelle schede informative di Rersaf. In agenda anche la sistemazione del ponte sul torrente Mello pericolante ammalorato utilizzando lo stesso materiale, il legno, rendendolo solo pedonale. Si procederà anche alla manutenzione delle passarelle esistenti sostituendo i tronchi attuali con altri. Per il sentiero sulla spondrografica sinistra, l'opera che più ha fatto discutere in questi giorni, si prevede una minima movimentazione di terreno, la sistemazione di un paio di guadi, l'utilizzo esclusivo di pietrame e sabbia già presenti sul posto, al massimo con qualche geotessile in sottofondo. La superficie verrà inerbita o coperta di ghiaia. L'aspetto finale, si precisa, sarà identico al precedente, ma percorribile con le carrozzine per disabili di nuova generazione. Sempre sul proprio sito, Rersaf spiega che non è previsto nessun intervento invasivo. Verranno solo ripristinate piccole scogliere in pietra lungo le sponde del torrente. Non verrà realizzata nessuna strada di cemento e non saranno usati esplosivi. Nella nota diffusa dal coordinamento delle sezioni e sottosezioni della CAI di Valtinia-Valchiavenna, si propone di evitare interventi che possano alterare il dedicato ecosistema della Val di Mello e di valutare con l'ausilio di esperti ambientali del CAI e di altre associazioni ambientaliste quali interventi migliorativi siano più idonei per rendere la valle più usufruibile alle persone con difficoltà motorie. Premesso che l'accesso alla Val di Mello è già possibile a chiunque grazie alla pista che percorre il lato destro orografico transitabile dai mezzi motorizzati e facilmente percorribile anche con le joelette, il commento del gruppo Ragni della Grignetta. Riteniamo che sia comunque errato l'approccio culturale che sta alla base di questo progetto, che tratta la conformazione e gli ostacoli dell'ambiente naturale alla stregua delle barriere architettoniche nell'ambiente urbano. La montagna, spiegano i ragni, è certamente una barriera però non di tipo artificiale ma naturale.